Buongiorno a tutti, oggi proseguiamo nell'analisi dei film di guerra parlando della legione dei dannati del 1969 di Umberto Lenzi questo film si ricollega a un film fatto qualche giorno fa relativo ai Spaghetti War ossia un sottogenere del genere dei film di guerra prodotti generalmente a basso costo prodotti in Italia ma girati molto spesso in Spagna tra la metà degli anni 60 e tutti gli anni 70 questo tipo di film era un film a basso budget che si avvaleva di tematiche di sceneggiatori attori che avevano molto in comune con il genere western e il genere d'azione in genere quindi in questo senso la cinematografia italiana trovò molto conveniente imitare una certa cinematografia americana e seguire quella fortuna che da Sergio Leone in poi ebbe il connubio dell'azione dell'azione appunto gestita in maniera anche ironica con degli espedienti narrativi abbastanza ricorrenti legati al tradimento a un gruppo che deve compiere una missione e questo film a regione dei nati non fa eccezione Lenzi che aveva avuto e avrebbe avuto altre esperienze nei film di guerra aveva fatto nella metà degli anni 60 attacco ai tre grandi avrebbe successivamente fatto altri film tipo Controquattro Bandiera nel 79 che poi avrebbe negli anni 70 fatto una marea di film dei poliziotteschi ebbene percorre questo filone anche egli insieme a tutta una serie di registi come per esempio Castellari e diciamo che i risultati sono un po' alterni alterni nel senso che si vede soprattutto se paragonati ai film di produzione anglo-americana diciamo una certa limitatezza nel nel tipo di azioni nelle storie nello specifico questo film è comunque interessante allora la storia è ambientata in Normandia nel giugno del 1944 e però si vedono le licenze il soggetto è di Dario Argento va sottolineato e gli elementi di un po' imitazione si notano già nella trama i film di questo periodo di produzione italiana sono essenzialmente un gruppo di di sparuti di di galeò ex galeotti o che hanno delle delle dubbie competenze che vanno un po' allo sbaraglio per fare una missione tendenzialmente dietro dietro le linee quindi questo è un po' il canovaccio che sta in tutti i film fino ad arrivare al grande successo postumo di quel maledetto treno blindato e questo film ripercorre questo tipo di canovaccio prendendo in parte la storia di quella sporca dozzina sostanzialmente prendere un manipolo di 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 galeotti di di poco di buono e buttarli in battaglia sperando appunto che le proprie doti di di malviventi possano essere utili alla alla causa nonostante le carenze disciplinari il film poi prende un seguito di alterne vicende diciamo il ritmo non è non è non è sempre sempre teso nel senso ci sono dei dei cali di di tensione che un po' tendono a dare a dimostrare un po' la fiacchezza sia della sceneggiatura che poi della direzione del del film e il seguito del film la seconda metà del film è legato al fatto di utilizzare questi questo manipolo per una missione che non gli era non gli era stata inizialmente fissata perché per una serie di disavventure devono loro fare il lavoro di altri e in questo si prende un po' la storia riprende la storia per esempio degli eroi di telemark in cui appunto c'è un commando o che poi verrà ripreso anche per esempio in forza di Città Navarone con uno specifico una missione che è legata a un treno che poi verrà preso da quel maledetto treno blindato quindi ci troviamo di fronte a delle storie che sono in parte già usate in parte verranno riusate quindi una sorta di ciclo in cui sono dei pezzi di film che piano piano poi tornano in pellicole precedenti o successive secondo me il punto di forza del film oltre ci sono una serie di errori storici madornali oltre appunto come al solito le ambientazioni che sono ambientazioni tipicamente mediterranee con ulivi con pini con dei c'è un ponte a un certo punto c'è un ponte su un fiume a strapiombo che in Normandia non c'è quindi evidentemente è una situazione presa in Spagna con dei casali tipici dell'architettura western che in Normandia non ci sono in Normandia in genere i casali sono di pietra non ci sono delle pietre non sono di legno con le assi tagliate quindi questo è anche un po' un elemento ricorrente di queste ambientazioni poco realistiche nell'ambiente della Normandia abbiamo parlato in quella la battaglia dell'ultimo Panzer e errori per esempio che c'è questo commando inizialmente in tutti inglesi tranne uno poi verranno altri inglesi che poi faranno una brutta fine che sbarcano a Omaha Beach Omaha Beach era una zona legata agli americani quindi gli inglesi non c'entrano niente tra l'altro il generale all'inizio affida questa missione al colonnello dicendo allora lo sbarco avverrà il 6 giugno quando in realtà il 6 giugno è una data che verrà dopo nel senso inizialmente lo sbarco era il 5 quindi anche qui ci sono degli elementi che vanno un po' a stonare con la storia veramente avvenuta e tra l'altro il commando viene spostato con un sommergibile che dalla Livrea anche vedendo la numerazione non è un errore in senso tecnico però viene utilizzato molto probabilmente anzi sicuramente il sommergibile italiano Leonardo Da Vinci vedendo il numero stampigliato sulla Livrea sulla torretta del sommergibile che tra l'altro era un sommergibile americano durante la seconda guerra mondiale quindi ci può anche stare oltre a degli errori sulle luci giorno notte che si alternano errori di montaggio di questo tipo secondo me la cosa interessante del film sono a parte la musica di Marcello Giombini che è un musicista che si era dedicato anche lui al genere western ha fatto anche musica liturgica cioè un compositore abbastanza eclettio che va comunque citato ma secondo me la cosa più interessante è i tre attori tedeschi che fanno i cattivi i cattivi secondo me se io avessi dovuto spendere dei soldi per questo film appunto l'avrei dati per i cattivi secondo me i cattivi hanno avuto dei cachet sicuramente superiori anche allo stesso Jack Palance che fa il suo però non è una delle sue interpretazioni migliori anche ha fatto altri film di guerra secondo me con più efficacia e i tre attori grandissimi attori tedeschi che fanno i cattivi i cattivi che li faranno in tantissimi altri film sono Kurt Jurgens Wolfram Price e Gerard Herter partendo dall'ultimo Gerard Herter lo si ricorda per il capitano austriaco austro-ungarico in La Grande Guerra quello che appunto poi manda a fucilare Iacovacci e Busacca che interpretava poi il generale in i due colonnelli con Totò per dire Wolfram Price invece che ha fatto una marea di film ha fatto l'attentato del 20 luglio negli anni 50 furono diversi film sull'attentato del 20 luglio negli anni 50 poi ha fatto Il giorno più lungo Il cornello for Ryan Lo sbarco di Ansio farà addirittura Von Brafitz in Venti di guerra farà Rommel l'antanker Rommel farà interpreterà For Roosted in Quell'ultimo ponte quindi una carriera anche ad altissimi livelli di ruoli nelle parti di ufficiali anche ufficiali generali dell'esercito tedesco e poi Kurt Jürgens pure lui una serie di film molto interessanti ha fatto anche lui Il giorno più lungo poi tutta un'altra serie di film farà il cattivo Stromberg in Agente 007 Laspi che mi amava quindi vedete come vi è una composizione di elementi molto interessanti che da un certo punto di vista sono un po' fiacchi d'altra parte un po' di punti di forza il finale un po' così mitologico si vedono gli effetti speciali un po' raffazzonati che ci stanno pure in questi film un po' di basso budget però vanno registrati come figli di un'epoca figli di un'epoca in un periodo appunto dove questo tipo di film era molto in voga e comunque nonostante le minuzie nonostante appunto gli elementi abbastanza grossolani avevano un loro pubblico un loro incasso quindi diciamo avevano un loro mercato detto questo vi ringrazio ancora per l'attenzione iscrivetevi al canale mi piace alla prossima ciao